Stiamo incartando le mascherine che andranno alla popolazione, poi nel pomeriggio partiremo per le vie di Fiesole a distribuire le mascherine. Si prega di rimanere in casa perché possiamo dare le mascherine solo agli utenti che sono in casa. Siamo divisi per zone, siamo divisi per la zona di Fiesole, noi, la Fratellanza Popolare della Valle di Mugnone, c'è la VAB e c'è anche la Misericordia. Siamo le altre associazioni che sono in convenzione con i comuni di Fiesole e stiamo facendo questo servizio per i cittadini. Stiamo angustando le mascherine per poi consegnarle alla popolazione, quindi facciamo i pacchi, le etichettiamo e andiamo direttamente dalle persone. È un'impresa un quadro, visto che il comune di Fiesole è abbastanza largo, diciamo, come aria. Ci sono le mascherine, scendete! Secondo le indicazioni della protezione civile, suoneremo il campanello e daremo le mascherine alle persone che sono indicate nella apposita etichetta fornita appunto dalla protezione civile tramite il sindaco. Per fare questa distribuzione, che è impegnativa però è necessaria e quindi sì, va bene, la facciamo molto volentieri. È un impegno straordinario, senza altro, è un impegno che però ci fa molto piacere fare perché le persone hanno bisogno di sapere come verranno distribuite queste mascherine. Noi in questo momento stiamo a supporto massimo della popolazione, sia con l'emergenza H24, sia con tutta la parte sociale. Stiamo dando da mangiare alle persone che sono in casa, dimesse dagli ospedali fortunatamente, ma ancora in quarantena, consegnare mascherine in tutto il territorio, consegnateci dal comune. dare una mano all'amministrazione per quello che è nelle nostre possibilità.